più soldi dobbiamo andare avanti però questa cosa non l'abbiamo io non l'ho mai fatta è un modo anche nostro per crescere come professionisti no per provarlo e soprattutto voglio dire vorrei vedere le persone che hanno in mano il budget se vengono a condividerle con me o con il dev team e quella è la trasparenza di un'azienda mi piacerebbe vederlo proviamoci proviamoci concludiamo questo siamo stati legi abbastanza legi anche ducati stavolta educati a modo e adesso lasciamo per problemi idraulici questa puntata vi ricordiamo il nuovo disco su tutte le piattaforme è uscita secchezza con l'album box doppio evagini il gin dell'agilista e ciabatte uomo ho fatto un casino ciabatte giovinezza e mutande uomo iscrivetevi al meetup che ormai però non ci sono più posti ma voi iscrivetevi lo stesso che ci fa piacere ciao e il gringo è ascoltato già il for italy ora non c'è più niente ma torneremo non c'è più niente ma torneremo non c'è più niente ma torneremo